Sono 50 le aziende marchigiane che fino al 12 giugno saranno di scena al Salone del Mobile. La grande Kermess milanese che ieri ha visto il taglio del nastro alla presenza del vicepresidente regionale Mirko Carloni al fianco del ministro Giorgetti, del sindaco di Milano Sala e del governatore della Lombardia Fontana. È un appuntamento cardine per uno dei settori produttivi più distintivi delle marche, che rappresenta oltre l'11% del fatturato totale del manifatturiero regionale dopo un 2021 da 740 milioni di euro di export, un quarto dei quali verso la Francia, seguita da Stati Uniti e Germania. Ed è una regione di immobilieri in cui Pesaro fa la parte del leone. Lo dicono i numeri ricordati anche ieri a Milano. Su 2.317 aziende marchigiane, quasi la metà, ovvero 1.063, hanno sede nella provincia di Pesaro Urbino. Una provincia che dà lavoro a più di 10.000 addetti, ovvero più della metà dei 19.000 in regione. Una provincia che al Salone del Mobile sta facendo bella mostra di sé con brand quali Scavolini, Ernesto Meda, Tomassi Galanti, Officine Fanesi, Malerba, Formerin, Domingo, Moretti Compact, Divu Home, Tonelli, GB Group, Dolce Far Niente, Etal e Adrenalina. Un esercito di espositori perfettamente inseriti nell'incontro fra sostenibilità e bellezza, che è il mantra di questa edizione del Salone. Espositori che hanno ricevuto anche la visita al Salone del Sindaco di Pesaro Matteo Ricci, che ha consegnato a tutti il logo di Pesaro 2024 per rendere le eccellenze mobiliere e cuciniere ambasciatrici di Pesaro, capitale italiana della cultura, all'interno di una delle vetrine di massima visibilità nazionale. Salone del Mobile che non è solo una vetrina, ma anche un'occasione di programmazione politica a sostegno dell'ulteriore sviluppo della filiera del legno. L'obiettivo nostro come giunta regionale è quello di calare delle misure che siano veramente conformi alle esigenze delle imprese, ma anche del mercato. Noi abbiamo tante filiere produttive straordinarie, lo dimostra la presenza in questo Salone di 50 imprenditori che hanno presentato al mondo delle nuove modalità di arredo straordinarie, con un design che veramente non ha nulla da invidiare ad altri competitor. Quello che vorremmo fare è far sì che queste grandi leadership di mercato diventino un'opportunità di crescita anche per il territorio. In che modo? Con due misure in particolar modo. Quella degli investimenti e quella delle filiere ed ecosistemi, noi vorremmo dare forza agli investimenti, alla crescita del valore nella filiera produttiva, facendo in modo che i nostri fornitori che lavorano dentro una catena del valore come quella del mobile e dell'arredo diventino sempre più competitivi e riescano ad attrarre anche investitori, ma soprattutto a non doversi basare sul prezzo, cioè sull'abbassamento dei costi di produzione, che è una strada che noi non possiamo percorrere. Piuttosto dobbiamo riuscire a rafforzare nei costi di logistica, nei costi di marketing, nei costi di formazione, in quelli di digitalizzazione, degli investimenti che aziende piccole possano fare insieme e rafforzarsi, quindi rafforzare quelle che sono le catene del valore di questa regione e il mobile, l'arredamento è principalmente una di quelle catene di valore che secondo me merita grande attenzione.